Buongiorno Notizia E in chiusura del nostro appuntamento odierno di Buongiorno Notizia parliamo di cinema, un'ampia pagina di cinema presentato il Festival del Film, ne parla Messina oggi da venerdì 22 a sabato 30 luglio l'arena Don Bosco di Giardini Naxo sospiterà la ventunesima edizione del Festival del Film per ragazzi a Palazzo Zanca il direttore artistico Ignazio Vasta alla presenza del primo cittadino Renato Accorinti ha illustrato il programma dell'evento che prevede la proiezione di pellicole per ragazzi e annovererà diversi ospiti che per l'occasione verranno omaggiati con il riconoscimento premio Naxos Cavalluccio Marino a consegnarlo lo stesso sindaco metropolitano a Corinti e Don Fortunato di Noto, presidente dell'associazione Meter Onlus la manifestazione è patrocinata dalla città metropolitana di Messina col contributo dell'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo ed è organizzata dall'associazione Centro di Solidarietà Porto Onlus presieduta da Monsignor Salvatore Cingari in collaborazione col Centro Studi Cinematografici il Comune di Giardini Naxos il coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia il Circolo Don Bosco e Salvatore Quasimodo il consultorio della famiglia e adesso ancora cinema, si diceva, recitare accanto a Ficarra e Picone sarà possibile per diversi giovani siciliani ad annunciare l'apertura delle selezioni per il cast del nuovo film del duo comico palermitano dal titolo L'Ora Legale e la società produttrice Trump Limited di Palermo che ha già prodotto Anche se amore non si vede e andiamo a quel paese ne dà notizia oggi Meridio News le ricerche riguardano una ragazza di età compresa tra i 18 e i 20 anni dal carattere deciso e dalla bellezza non convenzionale preferibilmente non troppo appariscente anche se sono ammessi piercing, tatuaggio e taglio di capelli moderno della stessa età verrà selezionato anche un ragazzo in questo caso il profilo riguarda un giovane dai modi gentili e che dedica particolare attenzione all'aspetto estetico spazio anche ad un bambino tra i 7 e i 9 anni che ricordi nelle sembianze Ficarra e un adolescente tra i 10 e i 12 anni dalla corporatura robusta i selezionati dovranno poi cimentarsi in un provino di recitazione passato quello bisognerà soltanto attendere l'inizio delle riprese che dovrebbero iniziare il 5 settembre per concludersi l'8 novembre questo il programma dei casting gli interessati possono prendere appunti a Catania 25 e 26 luglio presso gli uffici Bramà Corporation in via Ansalone 8 dalle 10 alle 13 dalle 14 e 30 alle 16 e 30 a Termini Merese il 27 luglio al Cinema Teatro Eden a Palermo il 28 e 29 luglio al Teatro Savio un'opportunità quindi per recitare a questo simpatico duo comico Ficarra e Picone tra l'altro nei giorni scorsi protagonista proprio nel Catanese ad Acicatena di un'intera settimana quella dedicata a Cine Nostrum in chiusura adesso le previsioni del tempo per oggi al mattino cielo sereno poco nuvoloso temperature minime in rialzo nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato e caldo massime in aumento con punta di 32 e 34 gradi 20 settentrionali da deboli a localmente moderati mari generalmente poco mossi localmente mossi il Tirreno e il canale di Sicilia siamo puntualissimi mancano pochi secondi alle 10 noi chiudiamo l'appuntamento di martedì 19 luglio 2016 di Buongiorno Notizia che torna puntuale domani dalle 8 e 15 in poi ancora con la rassegna stampa poi tante notizie gli approfondimenti oltre naturalmente la buona musica di Studio 90 Italia spazio e microfono adesso a Paola 4 con il suo Stelle di giorno da Antonio Carreca è tutto l'augurio di un buon proseguimento di giornata a tutti voi abbiamo trasmesso Buongiorno Notizia